Indovina il nome della manifestazione commentandola qui sotto. Potrai vincere il cofanetto esclusivo di Spishamber Channel con tutta la prima stagione di On The Road. La soluzione andrà in onda mercoledì prossimo nell'episodio di Dusseldorf. Insieme a tutti i nostri spettatori di Spishamber Channel con tutta la prima stagione di Spishamber Channel con tutta la prima stagione di Spishamber Channel.